Musica Un ben ritrovati cari telespettatori e telespettatrici anche con l'edizione delle 12.30 del nostro telegiornale regionale. Nuovi rintracci di migranti questa mattina lungo la strada regionale 56 a Butrio, in parte sulla viabilità ordinaria a Pradamano e nella zona di Paparotti a Udine. Sono stati notati camminare a bordo strada già dalle 6.30 dagli automobilisti in transito che hanno chiamato carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza. Si tratta di una sessantina di cittadini stranieri, tutti provenienti dalla lotta balcanica. Sono in corso le operazioni di identificazione. La ex caserma Cavarzerani di Udine non può essere luogo di destinazione per accogliere questi cittadini, poiché in questo momento la struttura è in isolamento per quarantena. I migranti rintracciati nella giornata di ieri, infatti 38 in tutto, sono stati trasportati in parte alla caserma Melone di Tarvisio e in parte in un'ala del seminario Arci Vescovile di Castellerio a Pagnacco. In quest'ultima struttura sono state allestite delle tende per il triage e per la quarantena. Appunto, continuiamo a parlare di rintracci e di richiedenti asilo, facendo riferimento alle persone che sono state rintracciate tra Pradamano e Lovaria. Fra loro c'è anche un minorenne. L'amministrazione comunale ha fornito loro acqua e pane in attesa della Corriera che li porterà nella prima struttura di accoglienza disponibile. Quante sono le persone rintracciate questa mattina? Fra di loro ci sono minorenni? Allora, le persone rintracciate dovrebbero essere un po' più di una ventina, 24-25 e tra di loro c'è un minorenne del 2004. Come è avvenuto il rintraccio? Cosa hanno detto i ragazzi? Ma sembra che seguano la solita pista per cui arrivino a piedi dalla Bosnia fino a Trieste e che poi a Trieste qualcuno li carichi. Sembrerebbe su delle autovetture rilasciandoli presumibilmente prima o subito dopo il ponte tra Pradamano e Butria. Un rintraccio all'Ovaria, il secondo invece davanti al Bennett? Sempre all'Ovaria, si sono staccati da questo gruppo e sono stati rintracciati a Pradamano, sì, sempre davanti al Bennett. So che il comune ha fornito dei generi di prima assistenza. Vorrei ben vedere, è stata fornita l'acqua e poi visto che lamentavano ovviamente di avere fame, sono 5-6 ore che sono qua, abbiamo provveduto a far avere del pane che è stato comprato dall'amministrazione per poter superare le prime necessità, insomma. Cosa succederà adesso? Dove andranno? Adesso non sappiamo bene se vengono portati direttamente alla Cavarzerani o se verranno portati prima presso strutture create appositamente per fare il test anti-Covid e poi verranno gestite secondo le solite procedure. Stiamo aspettando che arrivi un pullman. Ieri a Gorizia tante parrocchie della città hanno ricordato nell'Omelia Stefano il bambino precipitato nel pozzo del parco Coronini-Kromberg e lo scorso mercoledì i 14 avvisi di garanzia emessi dalla procura di Gorizia hanno consentito di programmare per oggi l'autopsia. Ancora la crona che i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento sono intervenuti questa notte intorno alle 3 a Mursano al Tagliamento per soccorrere un automobilista che era rimasto bloccato con la vettura mentre stava attraversando il guado sul grande fiume. Fortunatamente il conducente non è rimasto imprigionato nell'abitacolo e non è rimasto ferito. La vettura è stata poi riportata a Riva dai pompieri. Scippo questa notte a Lignano-Sabbiadoro una donna è stata avvicinata da un motociclista mentre camminava vicino alla sua casa della cittadina balneare ed è stata derubata dal suo orologio Rolex. È accaduto intorno a Luna l'uomo che indossava un casco si è poi allontanato rapidamente in sella alla due ruote facendo perdere le sue tracce. La donna del posto non è rimasta ferita, indagano i carabinieri di Lignano. È un uomo di 56 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Gemona poco prima della mezzanotte di domenica. A dare l'allarme è stato un parente che non riusciva a mettersi in contatto con lui. Aperta la porta è stata fatta la tragica scoperta. L'uomo giaceva senza vita nel soggiorno colto da un infarto che non gli ha lasciato scampo. La salma è stata affidata nella notte ai parenti per la celebrazione dei funerali. Alle 14.30 nell'atrio del Santa Maria della Misericordia di Udine è prevista una conferenza stampa congiunta da CGL, Cisle, Will e Nursin dei Fialz indetta dall'RSU dell'Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale. I sindacati dopo il presidio di Trieste e lo sciopero di Pordenone puntano il dito contro la situazione che si è creata nella struttura sanitaria udinese. Tra le problematiche al centro dell'attenzione vi sono la carenza di personale che comporta liste d'attesa troppo lunghe e il mancato utilizzo di nuove attrezzature, l'arrivo in ritardo del protocollo per le ferie e il fatto che il premio Covid non è stato erogato. Voltiamo pagina. Ieri si è svolta la terza edizione di Regata in Famiglia, manifestazione della Voga Maranese. La giuria era composta dalle autorità di tutti i paesi confinanti con Marano e la presenza anche del consigliere regionale Maddalena Spagnolo nonché del presidente della Voga Maranese Alessandro Corso affiancato dalla vice Giuseppina Milocco. Si tratta di una regata a scopo socio-culturale condita da sano divertimento con i partecipanti di ogni equipaggio che sono parenti tra loro. Da qui il nome di Regata in Famiglia. Sono arrivati tre punti per l'Udinese ieri sul campo delle Cagliari. Un risultato reso fortunatamente vano dalla sconfitta del Lecce nell'anticipo. I bianconeri sono salvi con due giornate di anticipo e devono ora pensare alla prossima stagione di Serie A. Salvezza ci si aspettava alla fine della partita con il Cagliari e invece non è stato neanche necessario arrivare al fischio d'inizio. La sconfitta del Lecce contro il Bologna ha reso di fatto priva di significato salvifico la vittoria in terra sarda trasformando la gara con la Juventus nella partita della permanenza in Serie A. A portare i tre punti a casa è stato comunque Stefano Cacca, autore del gol dopo appena due minuti dall'inizio mentre per i restanti 88 poco si è visto sul terreno della Sardegna Arena. L'Udinese più in palla ha concesso poco al Cagliari e sia Musso che Cragno hanno dovuto affrontare solo ordinaria amministrazione. L'ultima settimana di questo diverso campionato porterà l'Udinese a scontrarsi con il Lecce mercoledì costretto a vincere per sperare nella salvezza e poi a chiudere la stagione contro il Sassuolo. Ritengo che ce lo siamo sudati e ci siamo impegnati al massimo per arrivare qui e quindi è giusto anche goderselo. E poi insomma, a mercoledì abbiamo il Lecce, domenica l'epilogo con il Sassuolo cercheremo di onorare al meglio questo finale di stagione e prenderci quanto più possibile. Abbiamo provato ad avere un atteggiamento propositivo che non fosse condizionato dalle partite sugli altri campi concentrandoci su quello che dovevamo fare noi. Nel primo tempo c'è riuscito di più, nel secondo tempo complice una stanchezza diffusa. Avevamo qualche strumento in meno, però insomma bene così. Il momento è bello, bello, dà soddisfazione e ripaga di qualche passaggio è stato particolarmente poco soddisfacente, poco fortunato dove abbiamo, secondo me, raccolto meno di quello che avevamo dato sul campo. Questa squadra, l'ho detto in altre occasioni, io credo meritasse una classifica migliore per quello che ha espresso in campo. Adesso, insomma, sta diventando un po' più serena, più corposa e non è ancora finita. È logico che fa molto piacere una vicinanza positiva che avverto, che la città di Udine mi sta regalando e che dà soddisfazione intima e che non è così scontato per una persona che fa quello che faccio io. Non so quello che succederà qualche minuto prima della partita. Ancora eravamo in bilico a giocarci la salvezza. Adesso abbiamo altre due partite e poi ci sarà il tempo e il modo di sederci a fare due chiacchiere. Un aggiornamento dell'inchiesta relativa alla morte del piccolo Stefano a Gorizia. È cominciata poco fa l'autopsia disposta dalla Procura della Repubblica di Gorizia che, come atto dovuto a tutela dei diritti di difesa, ha iscritto 14 persone nel registro degli indagati, fra i quali il sindaco di Gorizia, Ziberna, e due animatori del centro estivo al quale Stefano partecipava. Proprio i due animatori, da quanto si è saputo, hanno nominato periti di parte in vista dell'autopsia che, ripetiamo, è da poco cominciata a Gorizia. E poi c'è un'altra notizia di cronaca. Una donna è stata investita questa mattina a Lignano Sabia d'Oro lungo Viale Europa, intorno al 10.30. Stava andando in direzione dell'area del mercato in sella alla sua bicicletta quando, per causa in corso di accertamento, è stata travolta da una vettura che marciava in direzione dell'uscita da Lignano. È rovinata sull'asfalto ed è rimasta ferita. Dopo l'allarme, la centrale ha inviato sul posto un'ambulanza e un elicottero sanitario decollato dalla base di Campo Formido. La donna è stata stabilizzata e trasferita in elicottero in volo al Santa Maria della Misericordia. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita sul posto per i rilievi la polizia locale. E nel giorno della penultima gara di questa stagione che mette il Pordenone di fronte alla Salernitana, il tecnico Nero Verde, Attilio Tesseri, in conferenza stampa, ha sottolineato l'importanza del match. C'è moltissimo in palio, per questo dobbiamo arrivare giusti. Loro si giocano l'accesso ai play-off e cercheranno la vittoria a tutti i costi. Noi con un punto li conquisteremo aritmeticamente e con tre ci garantiremmo almeno la quarta posizione. Posizione che conta tantissimo in ottica post-season. Il Pordenone giocherà poi l'ultima partita, venerdì 31 luglio a Cremona. Bene, con questa notizia è veramente tutto. Rimanete comodi lì. Un saluto alla regia del nostro Campigotto Banco Audio, gestito dalla Martina Beraldo. Come dicevo, adesso c'è la sigla, la pubblicità, poi a voi la linea. Avremo dei collegamenti anche dalla zona della Cavarzerani. Come avete sentito ci sono stati altri rintracci. A tra poco.